Diceva Martin Luther King che la domanda più insistente ed urgente della vita è cosa stai facendo per gli altri? Una domanda che ci siamo sempre posti ogni giorno e a cui oggi vogliamo rispondere dal profondo del nostro cuore con questo video e con il nostro progetto Mask to School. Nel nostro piccolo stiamo cercando di aiutare la nostra comunità a superare questo periodo di difficoltà con un piccolo gesto simbolico. Infatti ad ogni studente delle scuole primarie aderenti all'iniziativa è stato distribuito un flyer attraverso il quale la famiglia potrà recarsi presso le nostre gallerie commerciali e ricevere in modo completamente gratuito una mascherina chirurgica certificata riutilizzabile da indossare in classe e in ogni momento della loro giornata. Questo ambizioso progetto ha coinvolto oltre 100 scuole, più di 30.000 alunni ed ha ricevuto sin da subito l'appoggio ed il patrocinio di tutte le istituzioni locali. Lo facciamo per ringraziarvi della continua fiducia che ci dimostrate ogni giorno, per il vostro costante supporto che oramai dura da tantissimi anni, per la vostra affezionata presenza nelle nostre gallerie e nelle nostre piazze e per tutti i momenti belli che avete condiviso con noi. Festi, weekend, anniversari ed eventi. Noi crediamo che non ci sia esercizio migliore per il cuore, che essere sempre vicino alle nostre famiglie, al nostro territorio e alle nostre città. L'avvenire di un futuro migliore è la porta e la nostra unione sarà la chiave per aprirla. Mask to School. La tua sicurezza al centro.